Corrado Minozzi è desiderato in direzione Corrado Minozzi in direzione Minozzi! Corrado Minozzi in direzione Corrado Minozzi, Corrado Minozzi, sono io Corrado Minozzi In direzione, devo andare subito In direzione, vado, via Pista, arrivano la legge, via, via, camminate Completo Ma che tievo, ma guarda che sistemi, io non lo capisco proprio Avanti Cosa c'è? La vuole il direttore Vogliamo farlo sempre a tutti, chi è il direttore? È lui Ma com'è pulito, un uomo pulito, la fedina pulita? Se ne vada, vada, vada Mi ha convinto Minozzi Corrado, agli ordini signore Minozzi, perché bussa così forte? Perché ho la mano magnum, questa non è una mano Questa è la forza di cento braccia Bravo, è per questo che noi l'abbiamo assunta Perché ho un po' in gamba, mi dicono un ex carabiniere Certo, grazie signore Eppure, la più alta percentuale di furti si verifica proprio sul suo piano Ah sì? Strano, molto strano È più di un mese che l'abbiamo assunta Ma è possibile che non ho riuscito mai a cogliere un malvivente sul fatto? Ma lei è sicuro di quello che dice? Eh certo, sta scritto qua Oddio Oddio, mi sento male Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente il cuore Oddio, l'attacchicardia Fermati, fermati vai, stia carabLa Oh signor direttore, cosa mi ha detto Stia carabha Comunque non si preoccupi, perché due in avanti sarò come Rambo Sarò come Ivan il terribile Gli spieço i due, crac Voglio dei risultati, non parole Sì sì, certo Però attenzione, perché il ladro è molto furbo Il ladro non si fa vedere Capisce? Va bene, vado, vado Grazie signor direttore, arrivederci, grazie. Vado, vado, vedrà, vedrà, oh se vedrà, arrivederci, grazie. Sparisca! E ogni tanto mi riesce, ma adesso non sono sparito, non ce l'ho fatto. Il signor Baffano, con inferno al 52, il signor Ornaro mi ha acceso al centro informazioni. Ti ho riconosciuto, Venturini Armando, detto anche gratta gratta amico mio. Già arrestato, 80, 81, 82. 83. Ah, 83, 83, molto bene. Cosa ho fatto, scusi, ero qui che stavo guardando. Ah, stavi guardando? Il signore stava guardando? Stavo guardando, no. Il signore stava guardando qui, eh. Tenga giù le mani. Adesso lo dico a tutti, adesso, vediamo un attimo se il signore stava guardando. È perché io sono stupido. Il signore stava guardando, il signore è qui presente, non stava facendo niente. Chiamo le guardie, chiamo la guardia, chiamo il capo sorveglianza, capo sorveglianza, capo sorveglianza. Buongiorno, eccomi qua, che cosa c'è? Dica, buongiorno. Ecco, stavo dicendo al suo collega che io stavo... Il mio collega è un po' loro pirla, dica pure a me che io invece... Dica, lo dico a lei che ci sono... Stavo dicendo al suo collega che stavo guardando in giro. Il suo collega mi ha salito, ma... Lei stava cercando di sgraffignare. Lei qua, apposentabilmente per sgraffignare. Faccio un attimo alla faccia di quello che si sta sgraffignando. Un po' di più. Dica miseria. Lì. Oh. A posto. Cosa ha fatto? Ma ha segnato. Identificato, la prossima volta... Lei ha segnato. Braccato subito, la prossima volta lei con questo segno. Braccato subito, capito? La prossima volta... Pedalare. No, pedalare un momento. Per piacere, pedalare, pedalare. Chiamo rinforzi, chiamo rinforzi. Vabbè, pedalare. Avanti, pedalare. Pedalare. Pedalare, pedalare. Mi spiazzi in due. Agente Minozzi, qui manca una bicicletta. Qui? Eh, manca una bicicletta. Come manca una bicicletta? Ma una bicicletta forse da corsa? Da corsa era, certo. Era una superleggera. Superleggera. Con i manubri, con il cartaglietto per la salita. C'era un signore che stava toccando. Certo, un signore proprio visto. Era rossa. Rossa. Rossa metallizzata. Rossa, ma era proprio lei. Porca d'una miseria. Ma allora l'ha vista. No, non l'ho vista. Ma c'era una bicicletta. Era una bicicletta. Cerchi, no? Cosa c'è? Cosa c'è? No, cerchi, no? So, so, vai. Sveglia. Bicicletta. E Roma? Roma 1-9, Roma 5-7. Grazie. No. Sveglia. Grazie a tutti. Scusi signorina, permette? Sono Corrado Minozzi, addettolo alla sorveglianza dei grandi magazzini. Vede questo qui è un ambiente che pullula di ladri, qui ladri pullulano, sono così, ma ci sono io che blocco, il ladro io lo blocco. E lei ha commesso una grave imprudenza, sa? Ah sì? Eh certamente, cara signorina, lei ha lasciato la sua borsetta aperta, la fibia è rimasta aperta. Oh grazie, lei è davvero molto gentile. Devi stare molto attenta perché qui fregano, qua fregano, vadi, vadi pure. Arrivederla. Arrivederla, arrivederla signorina, vadi, ci sono io che vigilo, vadi pure. Auf Wiedersehen, goodbye. Mi spiezzo. Controllo, vediamo un attimo, scusi. Scoltrino mi contosia? Eh, scusi, lo scoltrino. Signora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, biscotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, biscotto. 9.730. Tengo un attimo, facciamo il controllo. 9.730. Ok, a posto, vadi. Adesso, scoltrino. Non ho comprato niente. Come? Non ho comprato niente. Un momento, vediamo. Comunque non ho comprato niente. Alzi le mani, alzi le mani. Ma come si permette? Dico tutto così, ti amiamo. Stia calma perché sono così, io che devo fare. Stia calma. Vadi, vadi fuori. Vadi! Dispiezzo! Presto, svelto! Quanti ne abbiamo rubati oggi? Con questo sono 75, un vero record assoluto. Certo che siamo proprio forti.